Tribunosso Nera, amici e amici del Marietto, buona domenica 27 di giugno a tutti e a tutti e bentornato e bentornato qui sul mio canale del Marietto Milanista. Oggi è davvero una puntata speciale per me, ma proprio una puntata di cuore, una puntata che ha a che vedere proprio con i miei sentimenti, con la mia vita anche un po' privata e personale, però visto che il mio viaggio finisce qua dopo due anni qui a Milano non poteva che non essere chiuso con diciamo la libidine coi fiocchi avrebbe detto Gerry Calà e quindi oggi nel giorno del compleanno dei 72 anni del mio vecchio saggio papà oggi vi farò conoscere direttamente chi è il mio papà e il mio papà si chiama Ciro, Ciro tra l'altro tifosissimo del Napoli, quindi io già vi ho detto tante volte per questa ragione che io sono un milanista, però ho sempre avuto simpatia del Napoli, proprio perché io qua ho un padre che vi presento, ecco a voi signori il mio papà Ciro! Salve a tutti! Eccolo qua il mio papà, il mio papà è una persona veramente saggia, nella mia vita è stato come un luminare, è stato come... poi io sono stato anche un po' bighellone negli anni e tutto, però poi la base diciamo che è rimasta nel fondo allora mio papà come vi ho detto è tifoso del Napoli, mio papà è sempre stato napoletano e quindi gli faccio qualche domandina, una chiacchierata con papà diciamo no? Papà ma tu perché sei diventato tifoso del Napoli? Prima di cosa a Napoli che non è napoletano, non è napoletano, qui a Milano c'è Milano, Inter ma comunque c'è un miscuglio tanti giuventini, milanisti, interisti, ma la Napoli è una, è Napoli! E quindi sei diventato azzurro per questa ragione qua? Azzurro, ma allora c'era Balla Squadretta, c'era il grande Iuliano... Quindi sei proprio rimasto affascinato fin da piccolo da quei colori no? Poi nei tempi migliori è venuto il grande e insuperabile Maratona. E tu com'hai vissuto quegli anni quando c'era Diego Armando? Alla grande, alla grande, ogni domenica era un divertimento. E infatti io mi ricordo tra l'altro che quando ero piccolo un papà mi portava sempre allo stadio, anche perché io gli rompevo le palle fin da piccolo, papà, papà e portami a vedere il Milan, a vedere il Milan. E ho avuto la fortuna di vedere anche Maratona in quegli anni che veniva a giocare a San Siro. E tu ti ricordi quando ero io piccolino, che ero milanista, tu avresti voluto che io fossi diventato tifosio del Napoli o no? Avrei voluto, ho tentato. Però vi si è considerato che qua tifare Napoli in mezzo a interisti, milanisti e giuventini, la gente ti prendeva neanche in giro. Quello è il problema. Ma io poi sono diventato milanista quando ero in Serie B, quindi a me già mi prendevano in giro. E allora fai la tua strada. Nonostante tutto, poi quando ero io piccolo, che ero diventato milanista, comunque il Milan in Serie B e tutto, in quegli anni c'era il gemellaggio tra i tifosi del Milan e del Napoli. Ti ricordi? Andavamo, c'era lo scambio di bandiere in mezzo al campo, tutto. Quindi a casa nostra diciamo che non c'è mai stata questa rivalità. Ma infatti dopo il Napoli, io, per me è il Milan. Il Milan, lui lo sa. Certo, ma infatti lui è uno dei miei primi sostenitori nel canale anche. Cioè il Marietto Milanista, lui fa pubblicità da tutte le parti. Cioè Milanista, segui il Marietto, mio figlio. Quindi giustamente c'è stata questa anche consapevolezza del fatto che uno può tifare una squadra. Però abbiamo avuto anche dei nemici comuni, che era la Juve, l'Inter, questa Juventus. Siamo per... A casa mia è anti-gobba. A casa mia non si tifano. La Juve è sempre stata un po' come una malattia da evitare, ecco. E adesso, Pa, che cosa ti aspetti adesso da questo Napoli, adesso? Che anche Gattuso non ha più rinnovato. Ma arriva Spalletti, ma c'è Spalletti. Ti piace Spalletti come allenatore? Ma... Ma... Non è che... Minga troppo, come si diceva. Minga troppo, minga troppo. Non ti convince? Non tanto. No, sperando che faccia almeno due o tre acquisti buoni, almeno per quello, perché sennò altra che scudetto. Manco la Champions League. Non è la Champions League, non è quella, figurati. E vabbè ragazzi, quindi io come vi ho detto, come vi ho detto per me oggi, questo era un po' chiudere in bellezza questo viaggio che avete visto. Ho avuto modo di intervistare anche tanti della tribù, Massimo Peri, che tra l'altro papà ormai li conosce tutti anche, che lui entra nelle live. O Angelo il ballerino, piuttosto che Nero Luce, Mario. Questi giorni, come vi ho detto, non avrei... Massimo Baldoni. Massimo Baldoni. Anche lui ha un grande rispetto per... Ah, è un grande, è un grande. Un grande Massimo, davvero. E quindi per me è stato un piacere davvero fare questa vacanza e poter farvi conoscere anche persone e personaggi che ormai fanno parte di diritto nella tribù rossonera del marietto milanista. E volevo chiudere proprio in bellezza questo viaggio appunto col mio papà, che tra l'altro oggi fa 72 anni. E quindi tanti auguri papà, tanti auguri per questi 72 anni e grazie di tutto, veramente, grazie di cuore per essere stato davvero per me un punto di riferimento nella mia vita. Nonostante anche le distanze, che 15 anni sapete, ormai vivo in Spagna, però il cuore è sempre presente e siamo sempre vicini da questo punto. Quindi niente, un saluto a tutti gli amici del Napoli, innanzitutto perché sapete benissimo che io ho grande rispetto e simpatia per il Napoli. E poi, come sempre, dal vostro marietto milanista, sempre con il mio cuore rosso e nero, forza Milan! Sempre, sempre, ovunque e comunque! Perfetto! Ciao!